E alla finestra, potremmo dire così, guarda quello che succede a sinistra e a destra il Movimento 5 Stelle con il candidato premier Luigi Di Maio che dice, vedendo quello che succede nelle altre case, negli altri cortili, dice noi siamo gli unici credibili, compatti e con un chiaro programma di governo. Non è il 94, con un post sul blog di Grillo Luigi Di Maio risponde alle parole di Berlusconi, siamo l'unica alternativa ai 5 Stelle, un partito contro il ceto medio. Berlusconi mi ricorda il film Goodbye Lenin su un uomo che si è appena risvegliato dal 1994, scrive il candidato premier Grillino. Da tempo ormai continua, la classe media sta col Movimento che assicura meno tasse come quella sulla casa, meno burocrazia, sostegno alle piccole e medie imprese, innovazione e aiuto ai giovani. E così, dopo il no al Jobs Act di Renzi e la proposta di reintroduzione dell'articolo 18, Di Maio nel suo rally in Lombardia oggi ha affrontato anche il nodo pensioni. Non è possibile che le minime siano sotto la soglia di povertà, le riporteremo sopra i 780 euro, altro che le promesse di Berlusconi. A loro nessuno chiede mai dove prendano i soldi, noi abbiamo un programma tutto coperto economicamente, tutte le nostre proposte che passano per l'abbassamento delle tasse delle imprese, per le innovazioni tecnologiche, per la banca pubblica e per l'aumento delle pensioni minime hanno tutte coperture economiche. Infatti nei prossimi mesi conoscerete al dettaglio euro per euro dove andiamo a prendere i soldi. E mentre Roberto Ficco fa sapere che il prossimo obiettivo del movimento sono le parlamentarie con i programmi scelti dai meetup, Di Maio dice che quegli appuntamenti adesso possono aspettare perché prima viene la gente e promette una stretta anche sulle nomine politiche sulla sanità. Siamo il primo partito e andremo a governare, dice il grillino, che assicura ancora una volta una corsa al voto in solitaria senza alleati, nonostante quelle convergenze con una parte di sindacati della sinistra su temi come i diritti del lavoro. Li ho visti in questi anni, non mi potrebbero promettere di stare con i lavoratori, salvo poi tradirli, dice Di Maio, che ha parlato anche di un centro-sinistra spaccato almeno in due e per questo fuori dalla partita delle prossime elezioni.